E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questo venerdì rosso come il fuoco o come il sangue a seconda del punto di vista da cui lo vogliamo guardare. Sta di fatto che giornatina di dump per bitcoin che però vi anticipo che se la domanda dovesse entrare in gioco farsi sentire e dare una spintarella verso l'alto potrebbe ancora ribaltarsi a bullish. Quando facciamo l'analisi del grafico vediamo bene che cosa intendo e che cosa c'è da tenere sotto controllo ve l'ho già anticipato in realtà su telegram nelle analisi che abbiamo fatto oggi ma come vedete siamo all'attacco di un livello estremamente importante che è questo livello qui 51.300 che di fatto è un altro range loan. Alla fine qua avevamo 1 2 e poi 3 questo sarebbe l'ultimo livelli importanti rotto il primo si andava a puntare sul secondo e così via più ne perdiamo e peggio è non è una novità ma se una candela che va a tentare di bucare uno di quei livelli dovesse poi a fine giornata improvvisamente ribaltarsi e dare voce alla domanda recuperando il livello stesso e magari perché no chiudendo in verde diventerebbe addirittura un setup long. Non vi spoilerò ancora niente in realtà vi ho già spoilerato tutto ma dobbiamo andare più nel dettaglio e lo facciamo quando osserviamo i grafici. Perché adesso come al solito noi andiamo a dare un'occhiata a un paio di notizie un paio di cose interessanti poi leggo le vostre domande e vi voglio sempre e comunque carichi a molla e alla fine appunto ci dedichiamo ai nostri bene amati grafici. Partiamo subito con notizia numero uno ovvero c'è una data per l'AP1559 su ethereum ovvero stiamo parlando del 14 di luglio non so se è una notizia nuova di oggi in realtà perché mi sembrava di averla già sentita questa data. Ovviamente non è la data definitiva è una data proposta perché come vedete abbiamo tutta una scaletta una timeline da rispettare che prevede prima il fork delle varie test net vedere che tutto funzioni come previsto e poi il 14 di luglio applicare l'aggiornamento london che è quel pacchetto di aggiornamenti. Sapete che l'ultimo era stato berlin adesso abbiamo london che ha un pacchetto di aggiornamenti che va appunto a migliorare ethereum sotto diversi punti di vista se vi interessa sapere i dettagli tecnici o poi magari vi lascio il link a questo tweet che è di uno sviluppatore del team di ethereum oppure basta che cerchiate insomma lo trovate un po ovunque. E sta di fatto che l'ip 1559 è l'aggiornamento più atteso di tutto il pacchetto london proprio perché rende ethereum deflazionistico sapete che da lì in poi ci sarà una progressiva distruzione di parte degli ether utilizzati per pagare le gas fee e questo andrà a portare via dal mercato una quantità di ether veramente importante andando a cambiare completamente le tokenomics abbiamo parlato ieri nel video sui fondamentali di tokenomics no adesso c'è veramente un'inversione a u per ether e il sentiment generale è molto bullish anche in vista di quello che sarà poi il cosiddetto merge che ci sarà più avanti sempre quest'anno che fa parte del percorso di ethereum 2.0 il merge in sostanza va a unire quelle che sono la beacon chain e la blockchain attuale in un qualcosa di ibrido adesso non ve lo spiego oggi magari ci dedicheremo un video però anche quello sicuramente andrà ad abbassare la selling pressure di ethereum e andrà a incrementare gli incentivi di staking e detenzione quindi è sicuramente un'altra notizia positiva insomma questo io l'ho definito l'anno più bullish della storia per ethereum perché di fatto mi sembra così a patto che le date vengano rispettate quindi mi raccomando vitalic fai il bravo altrimenti non ti faccio più ballare nella mia sigla. Poi notizia numero 2 pancake swap c'è stato un po di casino stamattina su pancake swap perché cosa è successo c'era la migrazione alla versione 2 no all'aggiornamento pancake swap versione 2 quindi in sostanza c'era da tirare via la liquidità sui vecchi pool loro dovevano fare quello che si chiama deploy ovvero andare a caricare sulla blockchain i pool versione 2 quindi i pool rinnovati sul nuovo protocollo e poi bastava riaggiungere la liquidità era un evento interessante perché in quei momenti in cui ci sono queste variazioni gli apy tendenzialmente sono parecchio parecchio alti e allora molti di voi io compreso e eravamo lì un po dare un'occhiata a vedere come andava era previsto che durante l'arco della giornata a lotti in sostanza venivano appunto deployati passatemi questo termino proprioso i vari smart contract dei pool sulla della versione 2 un po alla volta però c'è stato un problema che è stato segnalato da alfa finance e da uno sviluppatore appunto di alfa finance che han detto che sostanzialmente c'era un potenziale problema con i nuovi smart contract di compatibilità per questo hanno posticipato il l'aggiornamento alla versione 2 hanno detto tirate via la liquidità perché dobbiamo fare il redeploy il redeploy degli smart contract e quindi bisognava tirare via la liquidità chi l'aveva messa prima di un particolare blocco l'ha vista insomma intrappolata in qualche modo quindi hanno dovuto cioè dovranno ricompensare cioè rimborsare un po di casino insomma e di fatto questo ha ritardato la migrazione del protocollo alla versione 2. poi la notizia del giorno permettetemi di dire Biden che vuole alzare la capital gain tax la la tassa federale su quindi comune a tutti gli stati uniti su i profitti da capital gain quindi le plus valenze da compravendita di asset sui dividendi eccetera 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 la vuole portare dal massimo del 23 8 fino al 43,4 quasi il doppio a cui poi si somma anche l'imposta statale e quindi giusto per farvi capire nello stato di New York che è uno degli stati con le imposte statali più alte si somma il 43,4 l'imposta statale federale più statale si arriva al 55,22 non sembra neanche male le tasse in Italia a vedere questi numeri e scherzi a parte questa bracket perché lì funziona a bracket vuol dire che ci sono degli scaglioni un po' come il nostro IRPEF per dire che secondo i quali se il reddito è un tot in una certa fascia si paga appunto una certa percentuale anche sul capital gain questa percentuale del 43,4 è quella del max bracket si chiama quella massima ed è dedicata a chi ha un reddito annuo superiore al milione di dollari quindi per quelli che vengono definiti ricchi ok questo dicono che abbia spaventato un po' i mercati in generale non lo so cioè a me sembra più non lo so un volerci ricamare sopra perché nonostante il consenso dica questo io credo che i ricchi hanno i loro modi per non pagare le tasse avranno corporations aziende società che utilizzeranno holding mica holding per evitare di pagare le tasse come persone fisiche inoltre non lo so io non riesco a immaginare il disco cioè il ragionamento di dire hanno alzato le tasse vendiamo tutto prima convertiamo tutto in fiat così paghiamo meno tasse e al diavolo gli investimenti cioè che ragionamento è non lo so mi sembra più un voler fare food cavalcando una notizia certo non è una notizia positiva per i cittadini americani però non giustifica per quanto mi riguarda il calo del prezzo il calo del prezzo è più una componente speculativa sappiamo bene come funziona questo mercato poi c'era anche la notizia dell'exchange turco che è sparito mica sparito ma non ho approfondito bene quindi non ve l'ho portata all'attenzione sembra un altro ammetti gox non lo so non so bene cosa sia successo però si parla di numerosi miliardi quindi è un'altra notizia non positiva allora qua io tengo il grafico qui dietro adesso passo alle vostre ad ascoltare le vostre domande perché io non lo so voglio che porti fortuna voglio vendere entro la fine del nostro live questa candela tingersi di verde mi raccomando concentriamoci tutti insieme e diamogli l'energia che le serve procediamo subito con la lettura delle domande avete visto sono andato short sui miei capelli proprio così dampano anche loro sono dampati anche loro dunque dove eccolo qua è vero che la proposta del presidente biden di alzare notevolmente le tasse sulla plus valenza ha influito sul crollo delle cripte anche in borsa ecco appunto era non lo so un rumor un po una forzatura secondo me permettimi di dirlo perché ripeto da investitore trovo assurdo dire bene liquido tutto per pagare meno tasse sulla plus valenza tanto poi rimangono anche dopo cosa fai ti tieni la liquidità cioè mi sembra assurdo davvero allora finalmente una live grande luca benvenuto allora presumo sia la tua prima bene grande grande quando l'intervista cristian miccoli è un po che non lo sento in effetti mi piacerebbe sentirlo sentirlo presto perché no mi avete dato un'idea secondo te il momento di chiudere posizioni sulle alt cioè siamo in piena al season ancora attenzione a non farsi ingannare dal rosso di oggi teniamo sempre presenti il quadro generale delle alte che è estremamente positivo è guardati il trend della dominance non è minimamente variato quindi questo è quello che dobbiamo tenere bello impresso nella mente non guardare e vedere rosso e dire aiuto vendiamo le alt perché quello si chiama panic selling vendere le alta ha senso o quando la tua strategia la tua posizione dice che deve essere chiusa quindi raggiungi il take profit lo stop loss in base al trade che ha impostato oppure se vuoi posizionare diversamente il tuo portafoglio lato trading io ve l'ho detto io sapete cosa utilizzo vi ho fatto anche un video dedicato e banalmente adesso non c'è nessuna caratteristica che mi dice neanche di ridurre la potenziale esposizione sulle alte anzi viene voglia di cercarne ancora proprio per questo trend fortissimo la bitcoin dominance al 51 per cento livello che non si vedeva da agosto 2018 pazzesco siamo un minimo storico le alte non sono mai state così importanti sul mercato come oggi e a guidare vabbè a parte un po di shit coin che anche doge faceva il suo e andiamo a dare un'occhiata adesso dov'è finito doge se è sprofondato o non è sprofondato alla settima posizione insomma di sicuro fa perché porta capitalizzazione al mondo alt e quindi va ad abbassare la dominance però oggi doge è abbastanza in dump direi mi sembra finita quanto meno sulle shit coin la parte di fomo andiamo a vedere un attimo gli ultimi l'ultimo mese facciamo sembra che di fatto stia andando a correggere punti un po ad andare ad assorbire il mega pump ma anche le altre shit coin come safe moon safe qui safe lì safe la tutte quelle robe inutili sembra che finalmente si stiano un po spegnendo ecco io mi auguro che finisca presto questa fase quindi se parlavi delle shit coin si se parli delle alt coin con la maiuscola direi che ce ne sono alcune che sono estremamente bullish guardate ad esempio solana quanto è bullish guardate ethereum quanto caspita è bullish cioè non lo so direi che c'è ancora tanta strada da fare per le alt coin ovviamente se le si seleziona nella maniera corretta poi magari facciamo qualche analisi più specifica poi 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 gli uc sei magro no questa questa è un'offesa per me perché io che mi faccio in quattro per pomparmi in palestra per pamparmi mi dite che sono magro non lo accetto non lo accetto no sto scherzando ovviamente allora al season ancora intatta sì 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 ne abbiamo parlato poco fa analisi su dot volentieri andiamo a vedere il nostro dot tra l'altro ecco un'altra notizia che vi volevo dire adesso poi ve la dico prima guardiamo dot allora eccolo qua il nostro dot guardate come aggredisce questo supporto in zona questo è dot per però è in dollari lo vediamo sia in dollari che in btc in dollari sta aggredendo la zona 31 31 e mezzo questo cluster qui ve lo ricordate opla propaghiamolo e guardate la candela di oggi è una candela potenzialmente di failure swing di domanda che fa vedere che insomma sono saltati un po di stop vedete a swing pippato un po di liquidità dai vecchi minimi e poi assorbimento e va a chiudere cioè si va a chiudere qui dentro potrebbe addirittura essere un setup long ecco era quello che cercavo anche su bitcoin per colpa tua adesso ha spoilerato tutto dot btc invece come si sta comportando per niente male guardate anche lui ha pescato dal nostro pool di domanda che ormai teniamo sotto controllo da tempo in memore e ha rimbalzato è stato assorbito e quindi è bene anche dot btc ora vi dico la notizia dunque fatemela recuperare perché è su 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 nell'archivio di eccolo qua nell'archivio del mio telegram aspettate che ve la condivido perché ne vale la pena eccola qua allora kraken sarà il primo exchange che permetterà di partecipare alle cosiddette parachain auctions quindi alle aste delle parachain su kusama chiaramente perché su dot non ci sono ancora e questo è molto molto interessante perché rende estremamente semplice l'accesso alle vendite iniziali delle parachain ok quindi come vedete questo è il diagramma di flusso l'ho preso direttamente dal twitter di kraken e che dire bella per kraken cioè si sta sta facendo dei bei passi in vista magari anche dell'ipo non lo so vuole sfornare qualche prodotto interessante e questo sicuramente è uno di essi presumo che sarà disponibile vediamo scopriamolo subito in italia perché sapete che in italia alcuni prodotti non ci sono ad esempio lo staking cioè alcuni staking perché altrimenti offrirebbe anche delle rendite veramente interessanti kraken però qui non vedo i paesi bloccati vabbè ci guardo un'altra volta per non annoiarvi però insomma interessante come cosa se vi interessa kraken io vi lascio viscillo dai permettetemi di farlo il mio referral link ve lo lascio in descrizione insomma sappiate che ci vuole un po non voglio farvi fomo ma ci vuole un po a fare la verifica dell'identità quindi ecco non aggiungo altro basta non voglio far troppo l'oscillatore procediamo procediamo grande lux fai molto bene con il nuovo taglio grazie mille grazie mille peso 5 kg in meno adesso di capelli hai provato la defy su neo con flamingo purtroppo no purtroppo no non ancora devo devo darci un'occhiata perché praticamente l'unica che mi manca ultimamente sono talmente ci sono talmente sotto con solana che sto usando solo solo solana praticamente dunque ma le aste di su kusama faranno alzare il prezzo guarda non è una novità quindi io non credo che ci sarà un aumento repentino di prezzo sicuramente accrescono la domanda e diminuiscono l'offerta perché vi ricordo che le aste per partecipare vanno a vincolare dei ksm lì nelle treasuries di kusama in cambio poi del dare la parachain a chi la vuole e la parachain a noi investitori da il suo token quindi di fatto lato tokenomics è positivo però non è una cosa speculativa ecco è una cosa più di lungo termine finalmente hanno riaperto i barbieri sì oggi è la notizia del giorno altro che biden hanno riaperto i barbieri mi sono tagliato i capelli questa è la notizia del giorno allora vai di edging che così sale tutto esatto non l'ho ancora aperto il mio edging short e ormai è una leggenda il mio edging short cioè sapete già che non appena lo aprirò pomperemo e faremo nuovi massimi e c'è poco da fare vi avviserò giuro sarete i primi a saperlo per adesso no non faccio l'analisi ora ne parliamo dopo allora ciao grande gli istituzionali fanno i bulli con i retail chi ha venduto immagino sia da panic sell e quindi retail sceso il prezzo perfettamente per far entrare i big a prezzi decenti quindi a parer mio siamo in piena spallata bitcoin sta entrando a casa dei boss dell'alta finanza guarda può essere nel senso bisogna vedere adesso io tendo a non ragionare in questo modo di solito e non perché è sbagliato che cosa però io di solito ragiono solo in base ai prezzi cioè io guardo il prezzo e semplicemente dico bene la struttura è salva è intatta è ancora lì è stata persa è a rischio e allora penso ok siamo ancora bullish ok siamo meno bullish oppure abbiamo invertito tutto lì per il resto non non so mi mi limito a guardare questo e non faccio speculazioni sul futuro poi che siano stati le whales mica whales i retail o mica retail cambia poco sta di fatto che eravamo molto estesi e che dire adesso un po' di correzione male non fa ecco lasciatemi dire questo poi grandissimo Luca ma btc down è considerabile uno short che differenza c'è con gli short classici che non so come si facciano su binance allora btc down è un token a leva quindi è come se fosse un etf in leva che ogni giorno si ribilancia per ottenere sempre una leva 3x quindi di fatto va a farti un compounding di volta in volta se il trend è decrescente incrementando la posizione quindi andando a fare appunto un compounding dei guadagni e riducendo la perdita nel caso invece in cui il trend ti va da contro però il problema è che se lateralizza quello che succede è che ti va a sbriciolare la posizione perché continua a rimbalzare un po' su e un po' giù e a ribilanciare un po' da una parte un po' dall'altra facendoti dei gran danni qualcuno banni Willy cosa sta facendo Willy cosa combini cosa combini Willy perché ti devi far bannare cosa stai facendo se ti becco ti banno eh allora Luca dove oldo mille e per due anni tre e trovarmi milionario ti piacerebbe eh la sfera di cristallo alla mano non lo so ovviamente io non rispondo a queste tipologie di domande perché sapete cosa ne penso ciao Luke ma come faccio a recuperare un ether wallet solamente con la private key puoi usare un client come può essere myether wallet e incolli la chiave privata e basta tutto lì e ti apre il wallet e poi puoi trasferire i tuoi ether poi cosa ne pensi di nano e compound dunque compound è ottimo perché di fatto è insomma una delle piattaforme di landing più interessanti in assoluto con più liquidità in assoluto e ha una tokenomics interessante tra l'altro andiamo a vedere anche il grafico visto che abbiamo parlato di fondamentà ah ecco perché me lo chiedete perché pompa eh vecchie volpi abbiamo parlato di fondamentali e di tokenomics allora ogni tanto la tiro fuori allora lato grafico che di fatto è interessante abbiamo una resistenza adesso qua poi abbiamo rotto queste resistenze qui questa zona di offerta e poi e poi e poi vediamo il settimanale se ci va ad aggiungere qualcosa sul settimanale ce n'è una anche qua mettiamola che male non fa che di fatto era anche vedete accumulabile con questa e quindi se chiudiamo il settimanale qui sopra sul settimanale proprio oggi è venerdì quindi ci siamo quasi potrebbe essere auspicabile un entry in questa zona ok con stop loss qua sotto posizione di lungo eh sul time frame settimanale stiamo parlando mentre sul giornaliero allora andiamo a vedere sul giornaliero avremmo anche quest'altra resistenza da bucare 0014 però dunque questa è quella sul settimanale vale meno questa era l'altra sul giornaliero con tanto di pool di liquidità si potrebbe andare ad azzardare già con qualche giorno di chiusura qui un retest target 0014 ed eventuale trend follower a seguire se il settimanale conferma questo è un altro esempio di posizione bifasica io la chiamo cioè una parte riferita al giornaliero ovvero il nostro entry sul retest qua giù e poi la conservazione della posizione magari inizialmente col take profit e se il settimanale va a chiudere confermando anche la posizione settimanale che abbiamo visto allora la andiamo a propagare su di esso e la teniamo aperta trend follower più a lungo uno dei target plausibili potrebbe essere questo qua 0017 ok quindi questo è compound poi dunque 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 ciao luca tempo fa ci hai parlato di un piano previdenziale per te fatto da te stesso puoi spiegarci meglio come lo fai è semplicemente un accantonare denaro con destinazione salute oppure qualcos'altro di più tecnico grazie allora guarda è estremamente semplice lo faccio su diversi mercati principalmente l'azionario te la faccio semplice ti pongo ti faccio ti descrivo la struttura di base che ha piano d'accumulo con una piccola variante di quelli che ho parlato nel video dedicato alle alternative al pack è quello con l'accumulo della liquidità nelle fasi ribassiste quindi durante il ribasso io accantono liquidità da mettere dentro poi non appena c'è il segnale di fine ribasso e poi semplicemente un pack normalmente che invece procede in avanti su supponi sp500 su degli etf abbastanza diversificati a basso rischio perché orizzonte temporale 30 anni circa e spero almeno e con la copertura no del tasso di cambio euro dollaro in base al ciclo quindicennale dell'euro dollaro quindi se l'euro dollaro è rialzista io mi esporrò all'euro quindi utilizzerò gli etf euro hedged al contrario quali non hedged quindi a pesco perti sul dollaro tutto lì basta ve l'ho detto un accantonamento di un po di liquidità ogni mese da investire con un orizzonte temporale estremamente distante nel tempo questo è il mio piano previdenziale perché dell'inps mi fido fino a un certo punto ecco diciamo così poi ciao luca per gli interessi su nexo secondo te è meglio prendere gli interessi nella solita cripto investita o meglio un più 2 per cento e prendere cripto nexo guarda secondo me è molto meglio nexo stesso perché cosa cioè così facendo ti permette di andare ad ottenere un rendimento molto più alto e alla peggio lo puoi cambiare ok quindi puoi cambiarlo direttamente sull'exchange nel token stesso considera che non è un più due per cento ma è tipo un più venti per cento è perché se tu fai il rapporto tra le due percentuali vuol dire che a parità di rendimento tu sei in profitto fin tanto che nexo il token nexo non è dampato del 20 per cento ok se prendiamo ad esempio un anno come riferimento e quindi direi che conviene abbastanza allora luca ho provato a fare un prelievo su binance ma mi dice failed per sovraffollamento sai se ci sono problemi su questo aspetto con binance è probabilmente ci saranno talmente tante persone che stanno prelevando stanno muovendo che ti ha incasinato tutto ti direi di riprovare tra una decina di minuti o sentire il support ecco ciao luca hai qualche titolo di studio in economia no io sono laureato in ingegneria e ho la specialistica in biomedica cosa che non c'entra nulla col mondo dell'economia e della finanza ma è sempre un po' stato una mia passione quindi l'ho approfondita personalmente ciao luca dove si possono trovare con discreto anticipo delle notizie affidabili sulle varie scadenze di futures e options per prevedere i dump come quello odierno quello di un paio di settimane fa allora le scadenze sono note sui sul sito della cmi ad esempio c'è quella dei futures delle opzioni non lo so cioè anche lì sui siti dei provider delle opzioni ci saranno anche dei calendari presumo ma ti dico una cosa non pensare che ti preveda i dump e non fare questo errore perché spesso per far notizia si dice si scadono un sacco di billion di open interest di opzioni o di futures beh quindi cosa vuol dire cioè non puoi sapere cosa faranno i trader con cioè alla scadenza se andranno a riaprire la posizione su quella successiva se andrammo a vendere spot per chiudere una parte di copertura cioè non fate questo errore mi raccomando di collegare un evento al prezzo prima che l'evento accada cioè si può fare solo dopo qualcuno magari da te l'avevo detto no in realtà lo puoi dire solo dopo quindi mi raccomando non cioè vi consiglio davvero col cuore in mano di non voler prevedere il prezzo utilizzando queste informazioni quindi il crore di bitcoin mi sembra non so perché è un po troppo pilotato questa volta hai sentito della notizia dei 58.000 bitcoin 58.000 bitcoin comprati prima tre giorni prima del dump uno che investe 3 miliardi non credo sia così sciocco ad investire in un dump stanno per arrivare le balene si agevola l'ingresso e guarda non lo so mi sembrano un po troppi un po troppe non lo so speculazioni e non sapevo della notizia dei 58.000 bitcoin non so chi sia stato a comprarli è una cifra pazzesca non so se la vedrò mai in vita mia ma non lo so ripeto cioè pilotato non pilotato chi se ne frega nel senso osserviamo come si muove comportiamoci di conseguenza adesso lo scopriremo presto se è un movimento reale o falso basta seguire il grafico e vedere un po come si comporta in reazione che ne pensi di waves? ho messo in staking USDC ma l'APY mi sembra troppo bello ho provato a fare ricerche e mi sembra un progetto solido no waves è un progetto solido quello assolutamente sì non conosco la DeFi su waves però mi informerò ma però io so che lo conosco perché è da tanto che esiste e di fatto è un progetto solido che io sappia ISEE non IRPEF no beh in realtà anche cioè sì anche l'IRPEF cioè l'IRPEF di un libero professionista è a scaglioni più il libero professionista fattura e più paga di tasse in sostanza era quello il paragone che volevo fare non è esattamente calzanti in effetti ma il paragone era quello food 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 sì c'è un bel po' di food nelle notizie allora io rimetto il mio grafichino qua dietro perché volevo tenerlo come porta fortuna ve l'ho detto ma come si fa a parlare di dump sulle alt quando è bitcoin che sta tirando giù tutto il mercato è tutto il giorno che i grafici in pair fiat sono identici a bitcoin no infatti le alt sono assolutamente in trend positivo non c'è niente da dire allora ciao Luca ma un entry sul retest di oggi su Solana Bitcoin ha senso nonostante l'estensione del grafico? grazie andiamoci a dare un occhio allora il nostro amato Solana eccolo qua dunque cos'è che ha retestato sull'intraday? perché di fatto dunque io non ho ancora visto retest se devo essere sincero anche sul 4 ore il più vicino è 61.400 SAT questa è la prima area di retest e volendo ci possiamo anche aggiungere il pool qua sopra di domanda che però non è ancora stato sgraffignato poi invece sul daily la zona di retest è questa qua la zona che arriva fino a 56.000 SAT quindi in sostanza tutta questa è una potenziale entry area sul breve però perché insomma andare a vedere così e poi ripartire questa è un po' l'ipotesi che segue chiusura qua sotto stop loss prossima fermata 47.500 e questo è il secondo supporto che ci troviamo davanti poi dunque ciao Luca oh no mi è saltato ancora mi sono saltate tutte le benedettissime chat no niente l'ho persa mi spiace mi stavo studiando ne leggo un'altra ciao Luca mi stavo studiando ora i tuoi video di trading consapevole mi sto approcciando a sto mondo da solo due settimane volevo ringraziarti mi sento di aver trovato una persona davvero esperta seria e sincera in mezzo ad un mare di Lazzaroni guarda è un piacere leggere queste parole perché io ci tengo ad apparire così cioè io sono così ormai mi conoscerete c'è chi mi segue dall'inizio che sono quasi tre anni e questo insomma io sono come sono non mi preparo video non mi preparo discorsi né niente mi vedete esattamente come sono davvero Luca cosa ne pensi di student coin niente di buono sai se devo essere sincero non non mi ispira neanche 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 un po' zero proprio allora ciao Luca ti volevo chiedere RIF come lo vediamo allora andiamo a dare un'occhiatina RIF RIF eccolo qua è ancora nel range è ancora in questo benedettissimo range oggi ci ha giusto pescato di nuovo dal range low siamo sempre in palleggiamento niente da dire quindi pool di domanda sotto pool di offerta sopra fin tanto che rimaniamo all'interno di quest'area è un range in piena regola quindi i setup sono quelli da range breakout se andiamo a rompere gli 80 sat e ci dirigiamo verso i 105 come primo target trend macro positivo e quindi ci sta di più cercare i long proprio sul range low come dicevamo poi allora questo direi che è il primo momento di andare a condividere il promo code di PrimeXBT allora come sapete ogni tanto vi scillo anche il referral link di PrimeXBT perché io lo utilizzo per fare trading intraday e allora sono andato a rompere un po' le scatole allora ho detto dai facciamo questa collaborazione così io scillo il referral link che voi mi date qualche promo code da distribuire e oggi ne ho due e la prossima settimana ne ho altri tre quindi sono promo code 0.0035bitcoin che potete usare per operare subito per fare trading direttamente dovete andare nel vostro profilo e andarlo a inserire esattamente lì allora ve lo copio in collo? no non ve lo copio in collo perché lo faccio vedere a video altrimenti i bot lo grattano via siete pronti? 3 2 1 eccolo copiate e incollate no non potete dovete andarlo a inserire a mano io lo lascio lì così voi ve lo andate a inserire e vediamo il primo che lo prende se lo tiene sono fondi che potete usare per tradare anche per dire aprite l'account mettete il promo code andate in leva 100 per e che dio vi benedica si può fare anche così allora allora io vado avanti a leggere le vostre domande intanto ciao luca da un punto di vista psicologico hai dei suggerimenti da dare a dei principianti come me durante questi semi dump sono stufo di alzarmi alle 4 del mattino cercando di salvare capre cavoli e poi alla fine faccio più danni esatto non bisogna ragionare così assolutamente già mangiato bene presissimo allora questo lo nascondo adesso rispondo subito alla tua domanda allora tac sparito 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 nel frattempo qualcuno mi ha chiesto di condividere anche il referral link lo condivido subito solo perché me l'avete chiesto se no non l'avrei mai condiviso l'avevo già condiviso anche su telegram comunque è qua se volete essere sul pezzo per il prossimo promo code che lo diamo tra un quarto d'ora circa aprite l'account se non ce l'avete se volete aprire un altro come volete non serve il non serve come si chiama il kyc e quindi sul pezzissimo allora 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 dicevi psicologicamente è un problema è un problema perché tu devi ragionare in questo modo devi ragionare dicendo io non lascio niente all'improvvisazione io non permetto che un dump mi vada a stravolgere quello che io mi immaginavo dal mercato cioè devi essere posizionato in modo tale da avere tutte le strade segnate cioè esempio sono un investitore faccio un piano d'accumulo uso esempi banali per essere più comprensibile il mio piano d'accumulo è strutturato in questo modo acquisto periodicamente con questa periodicità con questa strategia eccetera 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 bene dumpa non me ne frega niente pompa non me ne frega niente io continuo imperterrito ho il mio ribilanciamento mi aiuta lui quando va a dumpare o pompare perché se dumpa andrò a inglobare capitale all'interno di bitcoin se pompa andrò a far fuori uscire capitale da bitcoin è una strategia che non lascia nulla al caso e quindi se fa meno 40% non me ne frega niente se fa più 50% non me ne frega niente ok perché io ho il mio percorso sono un trader bene ragiono a posizioni quindi entry stop loss take profit e io devo saperli prima di entrare a posizione non è che entro e dico entro perché mi sembra bello il grafico facciamo che entro poi dumpa e dico no io non me lo immaginavo cosa faccio adesso disastro assolutamente disastro e quindi quello che succede è che insomma mi trovo impreparato faccio danni faccio disastri e improvviso quindi mi raccomando non fare questa cosa ecco sii preparato abbia una strategia già prima di prima di prendere posizione prima di fare qualsiasi cosa preparatela tutta dalla A alla Z poi procediamo procediamo allora potresti analizzare il grafico di ripple che male al cuore va bene dai analizziamolo però allora ripple bitcoin ripple bitcoin in realtà non fa neanche così schifus però ha fatto il suo pump come al solito adesso sta ritracciando ha perso il primo cluster di supporto questo bearish retest eseguito e adesso si sta dirigendo verso ha testato 1900 sat che era il supporto seguente poi 1634 ce l'abbiamo appena sotto e poi c'è quest'area 1345 1502 che è ancora sottostante questi sono i supporti per il momento il costrutto di top sembra disegnato quindi attenzione perché insomma non è proprio bellissimo come grafico cosa ne pensi di cake nel lungo periodo cake è assolutamente interessante perché ha una tokenomics fatta molto bene tra l'altro con la versione 2 non so se lo sapete allora beh non so dove dove andarlo a trovare però avevano fatto una votazione in sostanza sul come andare a definire un eventuale ulteriore burn di token e c'era da scegliere se andare a prendere una parte eccolo qua eccolo qua eccolo qua praticamente c'era hanno fatto una votazione dove la trading fee doveva essere dove si dovesse doveva decidere scuola riformulo la frase hanno fatto una votazione nella quale bisognava decidere come andare dove andare a destinare la trading fee e c'erano tre opzioni l'opzione che ha vinto è quella super positiva quella del burn perché lo 0,04% della trading fee cioè della parte della trading fee viene utilizzata per fare buy back and burn di cake quindi andando a portare via di nuovo dalla supply molto bene questa cosa non so come ha reagito il mercato ma qualcosa mi dice che ha reagito bene fatemi indovinare e di fatto sì cake è estremamente bullish pazzesco cake btc com'è ancora più bullish allucinante cake si sta muovendo benissimo ha preso il primo posto di liquidità per un po' non so se ce l'ha ancora di tutta la DeFi Ethereum compreso e sta crescendo in una maniera atroce quindi sì la risposta è sì sul lungo termine è un progetto valido e ha un'ottima tokenomics poi ciao Luca dopo la fine dell'alt season come mi conviene ribilanciare il portafoglio 70% bitcoin e le altcoin le continuo ad oldare oppure le vendo per poterle ricomprare in alt season anche qua dovresti saperlo nel senso tu l'allocazione nelle altcoin cioè va predefinita bisogna sapere prima quale vuoi che sia e come vuoi che si muova in base eventualmente all'andamento della dominance o altri parametri il fatto che tu dici come mi conviene bilanciare il portafoglio dopo la fine dell'alt season cioè cosa vuol dire fine dell'alt season innanzitutto e seconda cosa cioè perché stai chiedendo a me o in generale a qualcun altro se devi continuare a oldare le altcoin o se le devi vendere cioè è una cosa davvero la strategia di investimento va creata da sé non va chiesta cioè è importantissima questa cosa ve ne prego non uscitevene con dove devo comprare dove devo vendere cosa devo fare perché sottolinea soltanto che avete approcciato il mercato impreparati e quindi finora se siete in profitto vi è andata bene è questo il fatto mi raccomando gli u come si chiama l'indicatore dei volumi sulla destra voglio un profile è nella versione pro di Tradingview dunque 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 ti volevo ringraziare per avermi fatto conoscere Sovereign adoro il progetto il capitale che ho investito ha fatto per 60 e è un bel progetto di fatto è unico nel suo genere è una bella una bella perla quella lì secondo me ma su PrimeXPT hai aperto dei portafogli di covesting purtroppo no non me la sento questa responsabilità sarebbe troppa non me la sento ancora come ti stai comportando con la parte di Hold hai aperto lo short di copertura ma in presenza di macro cambiamenti di medio lungo periodo perché non disinvestire l'intero portafoglio per rientrare ad un nuovo cambiamento in uptrend guarda è facile a dirsi però poi ti voglio vedere nella pratica farlo cioè disinvestire tutto il tuo capitale da Bitcoin e dalle cripto a zerarlo e poi dire cioè sapere quando rientrare è difficile credimi è molto difficile perché poi se tu disinvesti e il trend riparte rigaloppa o comunque il downtrend dura poco e riparte subito lì vedi che i profitti non realizzati diventano una cosa brutta fidati che è molto molto più facile a dirsi che a farsi personalmente come al solito io ribilancio periodicamente short di copertura per ora non è aperto quindi Bitcoin continuerà a dampare tranquillamente finché non lo aprirò e lì inizierà a pompare e come mi compo come dove ho intenzione di aprirlo e se ho intenzione di aprirlo ve lo dico tra poco allora 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 ci può essere una correlazione negativa tra il prezzo del token di ellipsis e l'APY spropositato che paga la piattaforma per lo staking in realtà correlazione positiva direi perché l'APY credo che includa anche il prezzo di ellipsis quindi se cala mi aspetto che calino anche gli APY e soprattutto se cala il prezzo di ellipsis a uno viene meno voglia di utilizzare ellipsis per farmare il token che è in downtrend e quindi porta via liquidità porta via un po' tutto ecco sono riuscito a prendere il codice grazie mille bene mi fa piacere come mi consigli di documentarmi su come usarlo bene hai qualche tuo video sono assolutamente ignorante del margin trading dai non buttarlo via sono comunque cento e passa dollari che puoi usare e poi puoi prelevare i profitti se li fai quindi non buttarlo via magari impara a documentarti un po' sul trading e vedi vedi un po' tu giochicchiaci per aprire qualche posizione di prova senza rischiare il tuo capitale allora e guardati trading consapevole ovviamente mi sa che qui è pieno di tiktok investor ragazzi guardate bene i video di Luca del trading consapevole sono una manna dal cielo grazie di cuore Giuseppe troppo gentile però davvero abbiate una bella strategia cioè costruitevi una strategia di gestione del capitale non buttatevi alla cieca aprendo posizioni perché finisce veramente male allora ciao Luca che ne pensi di dragon chain non ne sentivo parlare da veramente tanto veramente veramente tanto ciao Luca sto provando ad aggiungere fondi all'ipsi sentro con il wallet trust e quando vado a depositare mi chiede di approvare il transfer ma non mi spunta nessuna notifica di approvazione mi potresti aiutare grazie allora ti consiglio di andare nel nostro canale discord nella sezione defi bsc lì posti quello che vuoi e ti aiutiamo siamo una community molto unita e ti aiutiamo volentieri ciao Luca cosa ne pensi di mir ah bella io la vedo una bella coin con un progetto che potrebbe essere interessante la mia scelta l'ho già fatta ma ci senti ci tenevo a sentire la tua dai allora la piattaforma mirror protocol è interessantissima cioè veramente bella ne ho parlato in maniera superficiale l'ultima volta è una sorta di synthetics sulla blockchain terra ne parleremo meglio e mir ti dico la verità sono impreparato sulla tokenomics quindi devo andare ad approfondire prima di parlare perché non voglio darti una un'opinione sbagliata o superficiale allora scorro un po' in avanti per leggere anche le ultime domande e non trascurarle cosa ne pensi del progetto Errond se puoi fare un'analisi del grafico guarda purtroppo non sono informato neanche su Errond non mi ha mai catturato abbastanza da dire lo approfondisco colpa mia è assolutamente andiamo a vedere il grafico andiamo a vedere il grafico che è positivo direi il grafico è molto molto bello allora starà cavalcando un po' il trend delle blockchain alternative presumo 2552 è il supporto principale che siamo andati a testare proprio qualche giorno fa e al momento direi che stiamo facendo una specie di cos'è un triangolo un triangolo simmetrico di lateralità una cosa di questo tipo facciamolo con le shadow che viene meglio viene più facile ecco una roba del genere quindi potrebbe essere una giga accumulazione una roba di questo tipo e dunque rimane buono come entry questa fascia effettivamente stop loss se viene violato il pattern quindi se andiamo a perdere ad esempio questi minimi e per il resto trend follower perché il trend macro è molto bullish è positivo quindi niente da dire niente niente da dire poi allora dunque 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 che ne pensi di dragon chain l'abbiamo già letta non spammate le stesse domande più volte dai fatti bravi vi prego bet cosa ne dici e bet è ethereum investito in ethereum 2.0 su binance non ci sono particolari fondamentali io personalmente non lo farei perché è un po' come dire non lo so è un vincolo con un apy non troppo alto non c'è di meglio secondo me c'è di meglio mi sono appena iscritta grande luca grande tu complimenti ben arrivata dai fai tieni alta la voce della componente femminile dei cripto investitori fate vedere che ci siete anche voi ogni tanto se no qua diventa un ambiente veramente tutto maschile e è peggio chi ne pensi di matic matic interessante perché sta sta facendo tanto anche matic stanno nascendo piattaforme su matic era nata c'era quella che porco cane volevo dirlo l'ultima volta che c'è anche su matic ma mi è passato completamente di mente una piattaforma dei fai abbastanza importante che ha lanciato anche la parte su matic però vabbè mi tornerà in mente mi era venuto in mente dopo il live in cui vi ho detto caspita me lo sono scordato oggi finirà allo stesso modo quindi parere assolutamente positivo niente da dire aiuta a scalare ethereum lato grafico range solito range che giusto qualche giorno fa abbiamo pescato di nuovo da qua giù il range low nasce addirittura da questo picco storico 5,50 e oltre e appunto si è propagato fino ad ora e al momento siamo appunto in questo intervallo che si deve risolvere ma il tutto in un macro estremamente bullish quindi ogni pesca da qua per me è un long ci sta il long con stop loss chiusura qua sotto o addirittura qua sotto ma già qua è più che sufficiente oserei dire benissimo poi 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 vediamo cosa ne pensi di sintropi noia non lo conosco ma dove le trovate queste coin dove le trovate ben protocol dopo la notizia di google fuori dalla top 100 è il miglior rischio che c'è su binance cosa ne pensi capitalizzazione troppo bassa bend in effetti è un po' è un po' un dimenticato non se ne parla più tanto forse per via di tutti i bagholder che ci sono da quest'estate effettivamente lato fondamentali cioè è un buon prodotto non c'è niente da dire lato valore cioè ci sta tutto il volerci investire è un oracolo uno dei pochi oracoli tra l'altro con news case concreti e anche a me sembra ottimo lato speculativo purtroppo è schiacciato dal bagholding che c'è stato quest'estate da quel mega pump immenso che poi ha ritracciato del tutto e quindi si deve un po' svuotare il mercato dai bagholder secondo me però non è escluso che possa avere un'altra bella fase rialzista grazie al suo valore e soprattutto appunto con l'integrazione di google adesso in termini concreti non so cosa possa portare nel breve o nel medio termine però sicuramente ha un bel risultato un competitor di chain link certo chain link rimane sempre il golden standard negli oracoli c'è poco da fare chain link è l'oracolo con la o maiuscola però è un campo dove c'è spazio anche per altri secondo me non solo per essere monopolizzato da chain link quindi lato speculativo bisognerebbe andarci a riprendere questo solito pool di offerta che andavamo a seguire da un po' di tempo 40.000 sat poi 52 minuti allora io adesso vi faccio vedere il secondo codice anche se secondo me prima per sbaglio l'ho fatto vedere per un nanosecondo e qualcuno potrebbe averlo già preso mannaggia il bello della diretta però io ora ve lo rimostro eccoci qua era lui vero vediamo sì direi che era lui eccolo qua allora probabilmente qualcuno lo ha già preso ma nel dubbio io ve lo lascio qui dove posso scaricare i dati della blockchain bitcoin per fare backtest con python cioè della blockchain o del prezzo intendi perché della blockchain basta avere un full node e ti scarichi la blockchain del prezzo ci saranno dei provider di dati storici non so quali possano essere non lo so non lo so dunque 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 cosa ne pensi di cvc mai visto già utilizzato era già utilizzato niente qualcuno se l'ha preso prima e niente il bello della diretta ma dove cavolo va scritto il codice nella sezione profilo c'è promo codes proprio su prime xbt e si inserisce il codice nella prossima la prossima volta vi farò un mini tutorial dai tanto ce n'è altri tre non demordete perché gli altri tre ce li becchiamo la prossima settimana ok quindi state sul pezzo seguitemi in live la prossima settimana altri tre codici da 00035btc e magari nel frattempo è anche pompato voi che ve li siete pescati invece in questa godeteveli tutti e noi invece adesso andiamo a vedere i grafici perché è il momento di rivelare la mia idea su bitcoin cioè quello che mi sembra bitcoin allora numero uno il macro è ancora bullish ok quindi questo sia ben chiaro non abbiamo costrutti di top importanti non abbiamo inversione di trend non abbiamo niente di tutto questo il macro è bullish ok questo è il punto di partenza quindi andiamo a vedere il micro quindi l'ultimo periodo l'ultimo periodo purtroppo non è roseo perché di fatto dopo il layer high l'all time high insomma il nuovo massimo abbiamo avuto una bella cascata di candelozze rosse che di certo non giovano non fanno non fanno piacere però siamo in una situazione iper estesa c'è dentro veramente cani e porci ormai in questo mercato che buttano soldi sulla shitcoin di turno comprano tutto senza neanche sapere di che cosa stanno parlando e quindi ci sta tutto dai il ritracciamento l'epurazione io la chiamo ci vuole e ben venga vi dirò di più ben venga io la voglio voglio una bella epurazione non voglio più vedere i tiktok investors qui dentro voglio vedere un mercato che matura ecco quindi come si sta comportando si sta comportando in maniera veloce repentina c'è stato un bello shake off adesso andiamo a vedere per curiosità come cioè le liquidazioni delle ultime ore delle ultime giornate allora liquidation vediamo vediamo liquidation 24 ore 4 miliardi neanche tanti a dire la verità vi ricordate qua in questa candela che erano 10 miliardi incredibile ora soltanto 4 insomma meno della metà per dire che comunque un bello shake off c'è già stato queste ultime candele rosse sì sicuramente hanno svuotato ancora un po' di mani però ecco il grosso era già stato epurato quindi adesso come come si comporterà bitcoin i livelli da tenere sotto controllo per andare a disegnare un po' gli scenari possibili sono allora questo qua su 55 e 6 che l'abbiamo perso che era un po' il livello vedete di supporto il primo livello di supporto se rimanevano rimanevamo qui sopra non c'era niente di particolarmente spaventoso perché questo high avrebbe tenuto quindi avremmo avuto il insomma tutti higher high e un altro qua sopra rimanendoci ho alla peggio un equal low qua higher lows scusate non high ho alla peggio un equal low che comunque non incrina minimamente nulla l'abbiamo perso quindi vabbè prossimo livello da tenere d'occhio è questo qui quello cruciale 51.300 perché è cruciale? perché di fatto noi possiamo ancora dire reinventarci così dicendo low higher low e qua potremmo dire higher low perché vabbè questo l'abbiamo perso però almeno da più lontano ecco c'è questa sorta di tendenza che poteva rimanere ancora semirialzista però al momento purtroppo questo low è a rischio è notevolmente a rischio perché la candela di oggi l'ha bucato è arrivata a pescare un po' di liquidità perché vabbè qua sotto c'era della liquidità sicuramente ha un'area di stop tipica l'abbiamo presa tutta ormai direi con questa candela di liquidazioni 4 miliardi ripeto neanche tantissima e adesso c'è da vedere come reagisce alla domanda io stamattina su twitter vi consiglio tra l'altro di seguirmi su twitter perché tra uno shit post e l'altro ogni tanto dico anche qualcosa di serio avevo detto dov'è 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 eccolo qua se la domanda si sveglia e la candela di oggi di bitcoin chiude in verde sarebbe quasi da long e poi avevo detto anche c'è una cosa che non conviene mai fare vendere in pieno dumping preda al panico dopo i sell off molto spesso il mercato si assesta rimbalza e dà modo di vedere la situazione con più chiarezza e gestirla con più lucidità saper aspettare molto spesso premia per quale motivo perché se c'è il pieno sell off che tutti svendono saltano gli stop e così via la domanda è ancora silente e quindi noi stiamo vendendo anche noi in un momento di panic sell e quindi c'è molta più probabilità di andare a vendere a un prezzo basso senza neanche vedere poi come reagisce alla domanda che di andare a conservare il nostro capitale e andare a ridurre addirittura la perdita perché immaginate che adesso la domanda si fa sentire un po' si sta facendo sentire quindi avere venduto qua sarebbe stato peggio già adesso ma immaginatevi se poi oggi chiudiamo qua sopra o domani andiamo a rientrare qua dentro cioè cambiano completamente i connotati della struttura di mercato se andiamo a continuare a scendere c'è una struttura se andiamo a recuperare qui c'è un'altra struttura completamente diametralmente opposta e come facciamo a sapere in anticipo quale sarà lo scenario che avverrà nel momento stesso in cui abbiamo il primo break del supporto cioè è veramente rischioso andare a fare panic sell perché anche se supponiamo proprio abbiamo in mente una strategia già di sicuro che ha fatto panic sell non ce l'avevi in mente ma supponiamo che ce l'avessi in mente di dire bene se perdiamo la struttura perdiamo questo low io chiudo la posizione che ci sta come ragionamento ma non cioè non lo fai mai esattamente nel momento in cui buca perché almeno ti dai modo di vedere se è un falso breakdown se c'è speranza comunque di recuperare il livello perché se lo recuperiamo questo livello noi andiamo di fatto a configurare un altro range qua ormai si tratta di trovare il range prima era questo questo l'abbiamo violato quindi andiamo a farne uno un po' più ampio che sarebbe questo qui e se violiamo anche questo c'è l'ultimo poi basta sono finiti che è questo qui ok quindi adesso stiamo andando ad affrontare questo range se questo range rimane rientrando noi andiamo a creare quello che potenzialmente è un setup long perché chi di voi ha visto il mio video dove mostro tutti i setup nei range si ricorderà che i falsi break dai range low in un macro bullish quale è ricordatevi sono dei setup long setup long in che modo beh allora immaginatevi che oggi chiudiamo in verde cioè scenario migliore possibile allora volendo c'è un setup long aggressivo perché lo è di entry cioè apertura posizione anche a mercato stop loss o sotto alla shadow oppure chiusura della candela di nuovo fuori dal range perché è una conferma del fatto che comunque non è stato assorbito il breakdown ma magari c'è stato un po' di scossone della domanda e poi però l'offerta vince di nuovo cosa ancora possibile e quindi questo è un possibile setup altro possibile setup se oggi chiudiamo qui domani c'è una candela engulfing bullish che rientra anche questo è un setup long aggressivo con stop loss chiusura qua sotto ok proprio perché io vado a giocare sull'ipotesi cioè io sto ipotizzando con un trade faccio sempre un'ipotesi non c'è mai certezza ricordatevi faccio sempre un'ipotesi e decido cosa fare se cioè seguendo l'ipotesi e se mi sbaglio e quando mi sbaglio cioè intendo a che livello di prezzo mi sbaglio operativamente quindi in quel caso io andrei a puntare sull'ipotesi che io ho un falso breakdown dal range rientro nel range e quindi posso dire bene faccio la mia posizione long fino al range middle o addirittura al range high in base a come si muove poi nei giorni a seguire questi sono alcuni dei setup nel range se al contrario oggi andiamo a chiudere con una candela piena qua sotto tutta rossa ahimè non c'è molto da dire se non che l'offerta ha in pugno la situazione e purtroppo è così dobbiamo andare probabilmente a tenere sotto controllo 44 45 mila che è l'ultimo baluardo perché già rompere questo low vedete rompere questo ha invalidato cioè ha creato un costrutto di top guardate allora andiamo a identificare bene primo costrutto di top è stato questo con la rottura di questo livello ok è stato identificato come costrutto di top se andiamo a rompere questo abbiamo un costrutto di top ancora più ampio tutto questo se andiamo a rompere questo abbiamo come costrutto di top tutta l'area dell'ultimo periodo tutti i top tutta l'area dei massimi diventa un costrutto di top e questo è pessimo dal punto di vista della struttura del mercato ok quindi più si propaga il il bias bearish andando a estendere il costrutto di top e peggio è non è un discorso di prevedere quello che accadrà è un discorso banalmente di impatto della price action attuale sull'intero mercato l'impatto fin tanto che siamo circoscritti a questo top ci troviamo qui è minimo l'impatto se ci troviamo qui e il top si espande è medio l'impatto se ci troviamo qui e tutto questo è un top capite bene che abbiamo il nostro massimo e il trend il macro inizia a incrinarsi abbastanza quindi dal mio punto di vista il macro si inizia a incrinare qui sotto proprio perché facciamo un giga costrutto di top e quindi se andiamo a rompere qua sotto io inizio a pianificare il mio setup short cioè la mia copertura short da un punto di vista più importante al momento se noi rientriamo qui dentro io non me la sento ancora di aprire la copertura short anche se abbiamo i primi potenziali segni di inversione per quale motivo perché questo è un setup long banalmente e quindi non me la sento me la sentirò se al contrario dovessimo andare tipo a ritestare qua e poi di nuovo andare a flettere quindi a fare un lower high quello mi direbbe che è più cioè è più possibile è possibile andare ad aprire già la copertura short ma altrimenti non non ho ancora intenzione di farlo voi mi direte beh caspita cioè qui l'avevi fatto subito l'avevi aperta subito e adesso aspetti così tanto sì perché qui era un'altra cosa era una punta ok era un costrutto diverso in questo caso visto che è da un po' che ci muoviamo in questo range di prezzo abbiamo comunque una situazione appunto di range ampio e quindi non si può trascurarla cioè avere un bias bearish prima della rottura del range dell'inclinatura del range non è cosa cioè teoricamente lo potrei già avere se andiamo a chiudere bene qua sotto e andiamo a cercare il retest allora io poi potrei dire bene il range non vale più quindi non è che se riassorbiamo qua puntiamo al range high quindi setup long se andiamo a chiudere qua sotto io posso dire bene gli eventuali retest poi sono degli entry short e allora lì ci sta e eventualmente si può andare a distribuire un po' qua e un po' qua perché una volta poi fatto un low così in basso andiamo a ricercare l'ai e dove può essere l'ai se il massimo è decrescente sarà da quelle parti lì ma altrimenti ripeto ancora presto per andarmi a coprire in maniera importante per i motivi che vi ho appena detto su bitcoin questo è quanto in realtà perché abbiamo visto lo scenario bullish e lo scenario bearish tutti i livelli da tenere sotto controllo e come eventualmente io mi comporterei andiamo a vedere ethereum che ve l'ho detto è molto molto bullish contro bitcoin perché la candela di oggi è un po' un grido di buy the dip abbiamo riprovato cioè abbiamo rotto i massimi qua con chiusura presa di liquidità e chiusura abbiamo ritestato quest'area e c'è stata la domanda che ha riportato in alto il prezzo quindi molto bene per ethereum adesso vediamo se lateralizza ancora se fa un altro setup uguale a questo oppure no però è molto molto bullish e volendo cioè qui ogni dip visto che comunque abbiamo rotti i massimi è un potenziale setup long con stop loss in caso di chiusure qua sotto e quindi riassorbimento e falso breakout bene quanto tempo ci ho messo a dire tutte queste cose parecchio vi ho fatto vi ho fatto aspettare un po' allora quando apri lo short finisce il ritracciamento 100 su 100 esatto e infatti è proprio per quello che aspetto che aspetto ad aprirlo questo è il motivo bene amici questo è quanto stavo dando una scrollatina allora ecco qui c'è qualcuno che chiede aiuto che secondo me è un po' impanicato e lo leggo che magari è una lezione per tutti esempio in alt vtc non so se era la continuazione di un messaggio precedente ma forse no in alt vtc ho guadagnato dei satoshi ma vtc fiat sta andando malissimo e quindi nonostante il gain apparente sto perdendo soldi sono anni che mi intrippo in questo pensiero come ne esco miro solo ad accumulare satoshi proteggo i miei fondi in bitcoin a rischio di perderci qualcosa piuttosto che stare su una stable coin o fiat aiuto si sono stupido ma voi no e potete aiutarmi ne avevo parlato a un amico esperto ma non ero riuscito a spiegarmi allora parti dal presupposto che non sei stupido e già il fatto che fai le domande ti pone bene cioè meglio fare domande non è mai da stupidi fare domande seconda cosa purtroppo c'è un errore di fondo che è quello che tu stai mostrando un po' il non avere una strategia questo dovrebbe farti riflettere esattamente su questo punto non tanto sul rimanere in satoshi in euro in fiat quello lì decidi decidi tu nel senso devi avere una strategia che da qui in poi ti dice se tu devi fare una cosa oppure un'altra cioè tu miri soltanto a fare speculazione a fare profitto spendibile subito bene apri trade in usdt non ha senso che stai ad accumulare satoshi se invece tu hai come obiettivo di accumulare bitcoin di tenere comunque un investimento in bitcoin allora fallo basta tutto lì altrimenti tu fai trade altcoin usdt chi te lo fa fare di passare per satoshi non c'è nessun tipo di motivo però mi raccomando pensaci cioè ragionaci e struttura il tuo portafoglio il tuo capitale i tuoi trade in base a una strategia mi raccomando è importante non avere una strategia di sicuro non ti porta a niente di buono quindi magari adesso ti è andata bene hai fatto profitto la prossima volta non ti andrà più bene prima o poi non ti andrà più bene e perderai tutti i profitti fatti quindi salvati finché sei in tempo bene amici dopo questa pappardella filippica vi saluto vi ringrazio ovviamente di avermi seguito ringrazio come sempre gli abbonati che con amazon prime potete farlo gratuitamente e è una piccola donazione per il mio lavoro per voi a costo zero se avete prime dovete però rinnovarlo ogni mese in ogni caso io vi ringrazio davvero di cuore per avermi sostenuto e ringrazio anche chi utilizza i miei referral link che è un altro modo per sostenermi per voi a costo zero anzi spesso ci sono anche degli sconti dei bonus e cose varie io cerco sempre di portarvi qualche qualche vantaggio anche a voi laddove posso di nuovo vi auguro un buon weekend teniamo d'occhio la chiusura settimanale di bitcoin che sarà importante e noi ci rivediamo lunedì prossimo carichi e sul pezzo buona serata e buon weekend a tutti a tutti a tutti a tutti Grazie.